Musica Onorevole Piano Troraso, siamo qua a Gezzeria, nella sua Gezzeria per la decima edizione del premio Capo Suvero organizzato dal locale Proloquo Sì, è una bellissima iniziativa che mostra le bellezze e ciò che è positivo nella nostra Calabria Quindi mi compiaccio con gli organizzatori, con la signora Fragale e con la redazione stampa che ha organizzato questa manifestazione Noi abbiamo bisogno di questi eventi per pubblicizzare la faccia bella della nostra Calabria Quindi anche i personaggi che verranno premiati quest'anno sono tutte persone che contribuiscono in modo positivo Quindi è l'aspetto positivo che dobbiamo mettere in evidenza Grazie 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 Grazie